Buongiorno e benvenuti a Zoom sulla città, nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata alle attività del Comune di Napoli. Siamo con l'assessore Edoardo Cosenza per parlare oggi di infrastrutture e trasporti. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Finalmente ha riaperto Piazza Municipio, è soddisfatto del risultato? Sì, sono soddisfatto per due motivi. Primo perché la piazza era occupata da cantieri da oltre vent'anni e quindi era anche venuto il momento di ridarla ai cittadini. Ma il secondo è anche un altro, forse più importante, che noi dovremmo aprire moltissimi cantieri a Napoli perché stiamo ricevendo su nostra richiesta molti finanziamenti anche molto importanti. Però bisogna dimostrare ai cittadini che i cantieri si aprono ma si chiudono anche perché altrimenti troppi cantieri aperti non verranno ben visti. Quindi è un'opera soprattutto che si inizia a concludere ed è un segnale per il futuro. I lavori sono durati due decenni ma gli interventi hanno dovuto subire diverse rimodulazioni perché sono stati trovati scavi archeologici preziosi da ogni lato della piazza. Sì, questa è una cattiva notizia perché i lavori sono andati lentamente ma anche una buona notizia perché sono stati fatti dei ritrovamenti importanti a partire dalla nave di epoca romana. Devo dire che i lavori poi continueranno ancora perché abbiamo da pochissimo consegnato le aree all'impresa per la uscita sul porto perché la piazza è stata liberata ma dal basso, quindi dall'uscita della metropolitana, i cittadini arriveranno direttamente al porto senza dover attraversare la strada. Nel frattempo poi rimetteremo i binari del tram perché è passato tanto di quel tempo che magari i napoletani non si ricordano più che lì passava il tram, ci sarà di nuovo il tram e i binari verranno rimessi almeno in questo tratto proprio da chi sta facendo i lavori della metropolitana. Parliamo appunto di metropolitana, un importante finanziamento ministeriale, quasi 800 milioni per la linea 10, quindi si collegherà il comune di Napoli con altri comuni della città metropolitana. Napoli è rientrata alla grande nel tavolo delle trattative ministeriali perché questo finanziamento di 800 milioni è ovviamente un finanziamento importantissimo che si aggiunge a un altro finanziamento di quasi 400 milioni sempre sulla stessa linea che abbiamo ricevuto un mese e mezzo fa. Questa linea è importante per il nord della città metropolitana perché collegherà Fragola, Casoria, Casavatore alla linea 1 attraverso la stazione di Vittorio, che è vicino Capodichino. Ma questo è importantissimo perché si parla praticamente di circa 200 mila abitanti, tra l'altro anche alcuni quartieri di Napoli come San Pietro Appaterno e come Secondigliano verranno collegati, ma è anche un grande beneficio a Napoli perché tutti questi cittadini potranno venire senza l'automobile. Agli 800 milioni vanno sommati quasi 400 milioni che sono per quest'ulteriore lotto più i primi sette treni, saranno treni come si dice driverless, cioè i treni senza pilota, senza i treni automatici, quindi anche l'avvio di un risparmio di gestione molto importante. In questi 45 giorni abbiamo avuto 1 miliardo e 200 milioni di finanziamento per la metropolitana, che è il finanziamento più grande della storia di Napoli dal punto di vista delle metropolitane. Ci sono poi i lavori della linea 6 che dovrà arrivare a Bagnoli e Posillipo. Noi prima abbiamo ottenuto finalmente un accordo con le ferrovie dello Stato per avere lo spazio per fare il deposito a Campegna e qui siamo già partiti perché il finanziamento già c'era, poi ci sarà il prolungamento sia verso Bagnoli sia anche verso Posillipo. Nessuno si aspettava questo prolungamento che in realtà è semplicissimo perché bisogna attraversare il Banco Tufacio che da Campegna porta a Piazza San Luigi. Nell'immaginario Posillipo è molto in alto. No, diciamo, Fuorigrotta e Piazza San Luigi sono quasi la stessa quota, quindi diciamo che è un collegamento anche relativamente semplice perché si deve fare una galleria nel tufo. Teniamo presente che tutte le metropolitane di Napoli sono state scavate sotto acqua, cioè in terreni sciolti sotto il livello del mare, mentre invece questo collegamento sarà relativamente semplice e arrivando a Piazza San Luigi con un ascensore si arriverà anche a via Petrarca. Assessore, che novità ci sono per i nuovi treni della linea 1? I nuovi treni della linea 1 siamo riusciti a, ovviamente con relazioni molto accurate, fatte da esperti esterni, fatte da ANM, fatte dal produttore dei treni, a dimostrare che l'incidente che si ebbe al primo treno messo in circolazione a inizi luglio 2021 non era dovuto a un difetto del treno, era un altro problema che poi è stato rimosso ma non è un problema del treno e dopo questo convincimento che l'Agenzia Nazionale della Sicurezza si è fatto sono iniziate le prove dinamiche, negli scorsi giorni ci sono stati due giorni interi di prove, tra l'altro l'Agenzia della Sicurezza ha chiesto che si facessero di giorno proprio perché l'altra volta c'era stato un problema grave e qui hanno preferito avere il sistema allertato di giorno e fatte queste prove, prove complicate, perché le prove si fanno con treni in condizioni estreme, cioè si fa la frenatura bruschissima con pochi passeggeri, cioè col treno vuoto, o la frenatura di emergenza col treno pieno, non si mettono persone ma si mettono materiali, pesi dentro all'interno per simulare che il treno sia pieno, insomma ci sono moltissime prove da fare, è un collaudo molto accurato ovviamente, teniamo presente che questi treni nuovi possono portare 1200 persone ogni treno. E fatte queste prove dinamiche, diciamo al cui esito stiamo appunto verificando in questi giorni, il primo treno dovrà fare 5000 km di prova a vuoto, però questi si faranno durante la circolazione normale e poi entrerà in circolazione, quindi se tutte le prove di collaudo vanno bene, certamente prima dell'estate avremo il primo treno nuovo in circolazione, ma ne abbiamo da parte già tanti di questi treni nuovi, diciamo quindi se tutto va secondo le previsioni, nel 2022 avremo moltissimi treni nuovi da 1200 persone con una frequenza che scenderà fino a 5 minuti, fra l'altro io e il sindaco in questi treni già ci siamo stati, quindi diciamo prima che si facessero le prove ufficiali, noi già abbiamo fatto dei giri su questi treni che devo dire sono bellissimi, molto poco rumorosi rispetto ai precedenti, molto capienti, modernissimi, con tecnologie molto molto buone, quindi lo scenario dei trasporti su metropolitana può cambiare in questi mesi. Grazie, grazie Assessore e grazie a voi per averci seguito, alla prossima.